La nostra azienda è un'azienda che opera nel settore web, siamo una web agency, ci chiamiamo Weppi, operiamo principalmente con realtà turistiche, quella della Tavatellina e abbiamo delle siedi però anche nel Lazio, ci occupiamo anche di progetti gestionali e di altri software applicativi vari nel mondo del web. Di sicuro il nostro mondo è un mondo che continua a crescere, si sviluppa e si modifica giorno per giorno e quindi è necessario tenersi aggiornati e una delle difficoltà principali è comunque riuscire a tenersi aggiornati su tutto l'ambito di quello che può essere il web, che parte sia da sviluppo, marketing, da tutti i settori. Dobbiamo cercare di fornire tutte le informazioni per i clienti in modo che però sia più comprensibile possibile. Di sicuro è un registro molto importante e lo utilizziamo essenzialmente per acquisto a domini come utilizzo principale. L'esperienza di acquisto è semplice, nulla da dire.